Buonasera, buonasera da Onda di Gine, in apertura subito la pagina dedicata alla sanità. Il CIM di Sulmona ha chiuso da più di due mesi, il Tribunale per i diritti del malato ha chiesto formalmente un accesso agli atti. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Il Tribunale per i diritti del malato vuole vederci chiaro sulle mancanze che hanno portato alla chiusura del centro di igiene mentale, centro di urno psichiatrico di Sulmona e chiede l'accesso agli atti in assa Abruzzo. Dall'ispezione dei militari sono passati oltre due mesi e il TDM vuole capire quali delle prescrizioni sono state già impiute e quali carenze invece sussistono ancora, non permettendo il ripristino dell'attività nella struttura di via Le Mazzini, dopo la sospensione disposta lo scorso 13 novembre con ordinanza del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che ha recepito il verbale dei NAS. Abbiamo chiesto ufficialmente la copia dell'ispezione dei NAS, interpellando anche il nostro segretario regionale. Interviene il responsabile del TDM, Edoardo Facchini. Vogliamo capire se il tempo di 60 giorni indicato dal Dipartimento Prevenzione ASL è sufficiente o meno. Proprio il TDM, nei giorni scorsi, aveva lanciato l'allarme sul personale del Cime dell'Aquila, che sta gestendo il flusso dei pazienti che arrivano da Sulmona, nonostante la sede ambulatoriale collocata in ospedale. Per il ripristino dell'attività al Cime di Sulmona mancherebbero ancora l'allaccio dell'Enel e l'autorizzazione del genio civile. Tutto è cominciato con l'esposto presentato dal sindacato Nursind, che ha fatto scattare l'ispezione dei NAS, poi l'ordinanza di chiusura del sindaco Casini, impugnata dalla ASL d'Avezzano Sulmona-L'Aquila davanti al Tarra Abruzzo, ma i giudici amministrativi hanno dato ragione a primo cittadino. Ora la richiesta di accesso agli atti da parte del Tribunale per i diritti del malato. Nella cronaca torniamo a parlare dell'incendio alla palestra del Denino Morandi di Sulmona. È ancora giallo sull'origine del rogo. Oltre al dolo si batte anche la pista del cortocircuito. Facciamo il punto nel nostro servizio. È ancora giallo sull'incendio rivampato giovedì scorso nella palestra del risieduto Denino Morandi di Sulmona. Se la prima ipotesi più accreditata era quella del dolo, ora gli inquirenti stanno valutando anche l'ipotesi di un cortocircuito, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Si dovrà valutare in effetti se è presente l'allaccio della corrente. Un riscontro che sarà decisivo per far luce su un episodio che ha acceso riflettori sul futuro del plesso scolastico di Via d'Andrea. Fatto sta che la porta della palestra era completamente aperta. Già in passato i gnoti sono entrati nel plesso, che è finito in pieno abbandono. Entro questo mese si attende l'incarico da parte del proveritorato alle opere pubbliche, che è diventato soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori dopo la convenzione esiglata con la provincia dell'Aquila nello scorso mese di giugno. Subito dopo si procederà allo studio di convenienze economiche e alla presentazione delle istanzali di sequestro, dal momento che una parte della scuola sarà sequestrata il 17 ottobre 2014 della Procura della Repubblica dell'Aquila per presunti lavori sbagliati post-sisma. Ma nel frattempo si cerca una soluzione alternativa a Sulmona per accorciare i tempi, altrimenti per il rientro di ragioniere geometri a Sulmona con il loro preside e personaggio dell'anno bisognerà attendere le calende greche. E ora la ricostruzione del post-sisma. Per l'ufficio sisma di Palazzo San Francesco arriva la proroga della convenzione con Abruzzo Engineering. Finalmente si passa alle pratiche B ed E del post-sisma. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Prorogata fino al 31 gennaio 2018, l'intesa tra Comune, Regione e Abruzzo Engineering che in questi mesi ha consentito il potenziamento dell'ufficio sisma con l'integrazione di un team di professionisti i quali hanno portato avanti con la struttura un lavoro istruttorio per lo smaltimento delle pratiche rimaste nevase negli anni del post-sisma. Ad oggi è terminato il processo di istruttoria delle 210 pratiche di tipo A e ora si comincia finalmente con quelle di tipo B ed E riprendendo in carico anche la competenza dell'istruttoria dell'UTR-7 di Goriano Sicoli. Il consuntivo arriva dall'assessore comunale Nicola Angelucci. Al fine di garantire la continuità dell'attività istruttoria condotta dal nuovo assetto dell'ufficio sisma, spiega l'assessore, è stata prorogata la vecchia convenzione 2017 fino al 31 gennaio 2018. Nel frattempo si dovrà procedere alla stipula di una nuova convenzione per migliorare la disciplina dell'assistenza tecnica così da poter far fronte il più rapidamente possibile a tutte le istanze dei cittadini. Lo scopo è quello di poter attivare nuovi cantieri per la ricostruzione post-sisma, adeguare gli edifici colpiti dal terremoto recuperando i tempi che si sono allungati per effetto dell'enorme lavoro e le risorse insufficienti. Sembra Angelucci rimarca che l'accordo con la società Bruzzo Engineering che ha messo a disposizione i tecnici per incrementare l'organico dell'ufficio sisma sta fornendo buoni risultati. Sarà questo un momento opportuno per affrontare anche il complesso tema degli aggregati da approvare. Nonostante gli sforzi c'è ancora molto da lavorare con le famiglie che attendono di rientrare nelle proprie abitazioni per i lavori del post-sisma. È il caso del sulmonese Bruno Trinchini, ad esempio, che da un anno e mezzo ha ricevuto un'ordinanza di sgombero ma i lavori non sono ancora cominciati. E ora l'assilo nido di via Badia ha giudicato il primo lotto dei lavori che saranno seguiti da un'impresa di Teramo. Sentiamo nel nostro servizio. Un'impresa di Vontorio Alvomano in provincia di Teramo si aggiudica i lavori per l'adeguamento sismico all'asilo nido di via Badia. Un altro piccolo passo in avanti per operazione e sicurezza nelle scuole cittadine che finora è andata a rilento nonostante il terremoto di Amatrice sia passato più di un anno. Dopo il taglio del nastro dei muspi nell'ex caserma Cesare Battisti, anche quello in ritardo rispetto alla tabella di marcia, si sta mettendo mano ai singoli edifici. Nella delibera pubblicata sull'albopretorio del Sirio Istituzionale del Comune firmata la dirigente del quarto settore a Medeo d'Eramo viene assegnato l'appalto dei lavori di adiogamento strutturale a silo nido di via Badia, l'8-1 per un importo a base d'asta pari a 85.937,87 euro inclusi 2.946,84 euro per onere di sicurezza non soggetti a ribasso e 21.556,50 euro per il costo della mano d'opera. L'asilo nido di via Badia rientra nel piano triennale dell'opera pubblica 2017-2019 e gode dei finanziamenti del progetto Scuole d'Abruzzo e Futuro in Sicurezza per un importo rotale di 859.518,04 euro di cui 110.200 euro hanno finanziato il primo lotto dei lavori 274.318,04 euro riguarderanno il secondo lotto degli interventi mentre 475.000 la somma stanziata per i lavori nella Scuola dell'Infanzia della Frazione Bagnaturo. Sui cantieri e i miei partili nelle scuole pesano esposto presentato la Procura della Repubblica di Sulmona dal Comitato Scuole Sicure. Ora si attende l'avvio dell'intervento nell'asilo della Badia dal momento che la gara è chiusa. Nuovo anno nuovi rincari scatta una petizione online contro l'aumento del pedaggio autostradale sulle autostrade a 24 e a 25 il nostro servizio. Una petizione online contro la stangata del pedaggio autostradale che ha dato il buon anno agli automobilisti anche a quelli peligni. In tanti stanno sottoscrivendo la raccolta firme sul web. L'aumento dal primo gennaio del 2018 del 12,79% dell'autostrade a 24 e a 25 è un salasso insostenibile per i cittadini abruzzesi. Si legge nel testo della petizione ed è di gran lunga superiore rispetto alla media nazionale dei rincari che è pari al 2,74% ovvero un quinto di quanto invece subiranno gli automobilisti abruzzesi. Chiediamo al presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni di revocare la concessione al gestore e rinegoziare termini nuovi e più convenienti per tutti i cittadini. La raccolta firme è stata lanciata dal sindaco di Aielli ma sta girando sui social e anche diversi sul Monesi in queste ore la stanno firmando. Basta collegarsi con change.org il maggior portale di petizioni online al seguente link di riferimento www.change.org slash p slash governo cambiare concessione autostrade strada dei parchi. Ora la pagina dedicata all'occupazione dalle 14 nuove assunzioni all'ex Casa Santa dell'Annunziata venerdì il giorno dei colloqui. L'ex Casa Santa dell'Annunziata chiama a colloquio i 7 operatori socioassistenziali che si avviano alla selezione per un posto di lavoro full time a tempo determinato ma in avanti le procedure che faranno scattare a partire dal prossimo 14 gennaio il nuovo piano delle assunzioni. Dopo la richiesta partita dall'Ente il centro per l'impiego della provincia dell'Aquila ha avviato tutte le procedure lo scorso 11 dicembre e scaluto il termine per le adesioni. Un problema al terminale ha ritardato l'iter con la gradatoria che sarà pubblicata solo il 28 dicembre. Ora l'iter è in dirittura d'arrivo manca solo il colloquio di Rocinio che sarà tenuto dall'ex Casa Santa dell'Annunziata venerdì prossimo 5 gennaio dopo il pressing fatto partire nelle scorse settimane al centro per l'impiego per accelerare tutte le procedure in modo da rispettare i tempi stabiliti dal CDA. le assunzioni dovevano partire in effetti già dal 1 gennaio i 7 candidati sono Laura Pagliaro Giancarlo Bartolomucci Paola Di Silvio Daniele Leone Fredo Vallillo Cinzia De Vincentis e Cinzia Anni Fili completata questa prima fase si aprirà un'altra procedura che riguarderà le assunzioni e la casa del riposo Colai Anni di Roccaraso che fa parte dell'ASP numero 2 della provincia dell'Aquila ma quella è un'altra storia. E Sulmona è la città più bella da visitare in inverno parola del sito di Skyscanner sentiamo il nostro servizio con la raccolta di opinioni Skyscanner da è primato la città di Sulmona per le località italiane da visitare in inverno la patria di Ovidio si piazza al comando della classifica generale che conta 15 città più belle dietro a Sulmona Skyscanner inserisce Torino Madonna di Campiglio Spoleto Ascoli Piceno Trento Bologna Cagliari Aosta Sutri Alba Pesco Costanzo Salzo Maggiore Terme Limone Sul Garda Verona patria del celebre poeta latino video questa è una città che vi innamorerà a prima vista grazie a un centro storico suggestivo fanno notare da Skyscanner intricato di viuzze e costellato di palazzi storici di chiese bellissime fuori e dentro l'atmosfera invernale vi farà scoprire la faccia meno nota della città della giostra cavalleresca e della Madonna che scappa camminare lungo il corso nella piazza bellissima incastonata come una gemma tra le arcate dell'elegante acquedotto medievale vi scaldere il cuore anche in pieno inverno specie se farete in modo di essere in strada all'ora del tramonto stretti alla vostra dolce metà o prima di cena quando i profumi dell'ottima cucina regionale iniziano a sollecitare il palato un riconoscimento prestigioso per il capologo Peligno che deve spingere però tanto le istituzioni quanto gli operatori del settore turistico a una profonda riflessione se Sulmona è la città più bella da visitare in inverno che cosa si offre ai turisti una domanda che molti si sono posti a capodanno quando i negozi erano chiusi ed iniziative per brindare al 2018 ce ne sono state davvero poche se stessa non ha altro in questo momento da offrire e c'è anche il rammarico che una buona parte delle strutture più importanti più belle artisticamente della città siano ancora transennate o comunque presentano degli ostacoli che indubbiamente le deturpano non ci sorprende questa classifica che ci è stata attribuita perché già l'anno scorso altri autoreoli testate ci avevano data una grossa rilevanza le bellezze naturali ci sono sul Mona stessa e i dintorni sono spettacolari però io non sarei pessimista io penso che sia che sia tutto bello e che i turisti devono venire quelle piccole cose correttive che dobbiamo fare le dobbiamo fare noi cittadini di sul Mona e non aspettare che vengono da là però penso si può fare un po' di più più attrazioni più cose anche nel periodo natalizio insomma in questo è un po' morta fra De Grado e in Curia il Fontanone di Piazza Garibaldi non trova pace Barbara delle Monache nel servizio è considerata una delle piazze più belle d'Italia ma assolutamente non viene rispettata come dovrebbe si tratta di Piazza Garibaldi eccellenza d'Abruzzo il salotto buono di una regione che però non viene assolutamente salvaguardata da chi? in primis da chi la abita e poi dagli amministratori a farne le spese in particolar modo il Fontanone è risalente al 1823 tanto voluto dei sulmonesi di un tempo che non avevano a che vedere con gli attuali verità soltanto verità di fronte ad un senso civico inesistente è appena finito il 2017 anche a fine anno il Fontanone non si è rivestito a festa invece di illuminare la città per accogliere bene i numerosi turisti presenti è apparso degradato ricordando a molti una delle paludi del Marshall in Iraq all'interno della base della Fontana galleggiava di tutto cartacce pacchetti di sigarette vuoti mozziconi e tanto altro un biglietto da visita indecente per una città d'arte come la nostra ma oltre all'inciviltà di tutti anche quella dell'amministrazione che ancora non provvede alla sistematica pulizia di uno dei simboli della città speriamo che questo 2018 porti una rivoluzione certo è che al momento la postura di sindaco è vacante ma speriamo che questo nuovo anno porti lontano una città che ha tutte le caratteristiche per farlo basterebbe così poco e se da una parte si invita la popolazione alla civiltà dall'altra si invitano anche gli amministratori a prendere provvedimenti affinché questa città possa essere finalmente riconosciuta positivamente da chiunque la visiti e poi nell'era dei selfie quello scenario non può essere tralasciato oppure essere fotografato in vesti strappate la diocesi incontro al vescovo domani in 120 partiranno per Amalfi dove sarà ordinato Monsignor Michele Fusco 4 bus e 120 persone di cui una trentina sono sacerdoti con questi numeri la diocesi di Summona Valva si mobilita e va incontro al suo nuovo vescovo Monsignor Michele Fusco che domani alle 16.30 riceverà l'ordinazione episcopale nel domo di Amalfi prima dell'insediamento ufficiale a Sulmona in programma il prossimo 4 febbraio il raduno è fissato alle ore 9 davanti il palazzo vescovile di Viale Roosevelt mentre il rito dell'ordinazione è stato calendarizzato per le ore 16.30 ad Amalfi la città di Amalfi si prepara a grande evento e dall'arci diocesi arrivano tutte le disposizioni in ordine alla viabilità e all'accesso in Basilica che avviene solo tramite pass per questo in pochi si avventureranno con mezzi personali c'è grande attesa anche in diocesi per la presa di possesso del nuovo pastore che sangirà alla fine della sede vacante aperta lo scorso primo ottobre con l'insediamento di Monsignor Angelo Spina ad Ancona come arcivescovo metropolita chiuso il rito di ordinazione dove Fusco riceverà la consagrazione episcopale si metterà subito in modo la macchina organizzativa per il 4 febbraio dalla cura diocesana studieranno ogni dettaglio per preparare una degna accoglienza al vescovo fino a 4 febbraio la diocesi sarà guidata dall'amministratore diocesano Monsignor Aladino De Iulis a Pratola la chiesa con la rampa per i disabili l'arciconfraternia della Santissima Trinità pratolana batte le barriere architettoniche sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio sarà inaugurata venerdì prossimo 5 gennaio la rampa per disabili di accesso alla chiesa di San Pietro Celestino V l'iniziativa è dell'arciconfraternia della Santissima Trinità che nel suo spirito inclusivo punta ad abbattere tutte le barriere architettoniche l'opera è stata realizzata grazie ai fondi raccolti e raccominato festeggiamenti Santissima Trinità 2015 presidura Massimo D'Andrea coadiuvato dall'amministratore dell'arciso d'alizio trinitario guidato all'epoca dal priore Mario Di Pillo il lavoro è stato progettato dallo stesso D'Andrea concretizzato dalla ditta SIE della famiglia Pizzo Ferrato che si occupava della parte edile e da Vincenzo Saracco che ha curato la parte in ferro della struttura a tutti loro va la gratitudine di tutti i confratelli di tutte le consorelle trinitarie si legge in una nota che arriva dall'arciso d'alizio trinitario un ringraziamento particolare va alla sovrintendenza BSAI dell'Abruzzo alle giunte comunali decrescenti Sedinino che hanno seguito tutti i passaggi amministrativi utili per il compimento della costruzione la soddisfazione dell'arciso d'alizio trinitario è immensa in quanto finalmente l'ultima barriera architettonica che insisteva sul complesso ecclesiastico monumentale di gestione trinitaria è stata abbattuta ora finalmente anche le persone sedute con difficoltà di diambulazione possano partecipare alle attività che si svolgono in quegli ambienti l'auspicio dei trinitari pratolani è quello di assistere a un'ampia partecipazione soprattutto da parte della comunità pratolana Epifania in piazza San Pietro i figuranti della giostra cavalleresca di Sulmona sfideranno davanti Papa Francesco sentiamo nel nostro servizio saranno quasi 200 i figuranti della giostra cavalleresca di Sulmona che sabato prossimo 6 gennaio festa dell'Epifania sfileranno davanti a Papa Francesco in piazza San Pietro prendendo parte al corteo di centinaia di associazioni di rievocazione storica provenienti da ogni parte d'Italia che si snuderà da diversi punti della capitale per approdare nel cuore della cristianità percorrendo tutta via della conciliazione la giostra cavalleresca parteciperà per la prima volta nella sua storia alla 33esima edizione di Viva la Befana manifestazione promossa dall'Associazione Famiglie Libere Associate d'Europa nata per riaffermare e tramandare i valori essenziali della festa dell'Epifania una festa che ha bisogno di essere riscoperta superando un periodo di declino e la delegazione della giostra cavalleresca con dame nobili armigieri sbandieratori tamburini chiarine sarà guidata dal presidente onorario Domenico Taglieri da Maurizio Antonini presidente dell'associazione e da alcuni componenti del direttivo dell'associazione il corteo vedrà protagonisti circa 1300 partecipanti tutti in costume medievale rinascimentale accompagnati da bande musicali a mezzogiorno Papa Francesco saluterà tutti i partecipanti alla manifestazione impartendo loro la benedizione apostolica subirò dopo l'Angelus i Re e Maggi che attendono l'arrivo del lungo corteo porteranno al Papa i doni delle famiglie partecipanti tutto si svolgerà nel segno dell'amicizia della fratellanza della solidarietà valori propri nel periodo natalizio culminante nella festa dell'Epifania che conclude il periodo festivo della natività possiamo proseguire nel cammino di promozione dell'evento di Piazza Maggiore grazie anche a questa nuova occasione ha detto Domenico Taglieri un fatto che suona per tutti di buon auspicio per l'anno appena iniziato e che tutti incoraggia a continuare nell'impegno costante a favore della giostra cavalleresca per rafforzare sempre più questa manifestazione regina delle manifestazioni culturali che sono vanto della città di Sulmona e dell'intero Abruzzo e ora l'Aquila la solidarietà per il reparto di senologia dell'ospedale San Salvatore Donati 6500 euro al centro di senologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila l'iniziativa si è concretizzata grazie alle associazioni culturali nomadi fan club un giorno insieme amici della dottrina cristiana di Sulmona che hanno proposto la commedia Un maledetto imbroglio messa in scena dal gruppo Teatro per Casso di Sulmona la consegna dell'assegno è avvenuta nei giorni scorsi al ridotto del Teatro Vittorio Antonellini dell'Aquila noi siamo stati orgogliosi felicissimi di aver potuto donare un bellissimo contributo per il centro di senologia che servirà adesso con il dottor Alberto Bafile per potenziare ancora di più il centro di senologia aiutare il reparto di senologia dell'ospedale San Salvatore che è uno dei due hub regionali della nostra regione devo dire che è un dovere sia da parte dell'amministrazione che da parte di tutte le persone che purtroppo hanno bisogno delle cure e delle attenzioni dei nostri validissimi medici soddisfazione stata espressa dall'intera equipa medica del reparto di senologia con un ringraziamento particolare da parte del dottor Valterresta a tutte le donne perché sono loro che ci appoggiano sono loro che ci danno diciamo quella spinta in più per cercare di essere sempre presenti di dare sempre per quanto possibile il meglio il ridotto è stato completamente occupato tutti i biglietti che avevamo previsto cioè 350 sono stati venduti quindi un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato l'iniziativa è nata grazie alla volontà di Leana Pagani protagonista dello spettacolo teatrale sulla base di una sua esperienza personale io due anni fa sono stata seguita e operata da loro a causa di un tumore al seno e in loro io ho trovato veramente un appoggio a livello professionale ma un appoggio diciamo a 360 gradi in cui ho potuto veramente toccare il loro amore per salvare le vite di noi donne per cui era veramente in me talmente grande questa gratitudine che sentivo profondamente di desiderare di ridonare qualcosa anche a loro fra studio e talento il tenore Piero Mazzocchetti tiene a battessimo i talenti Peligni al teatro comunale di Sulmona vediamo tutto nel nostro servizio studio e talento per fare carriera nel panorama musicale la raccomandazione del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti che nei giorni scorsi ha tenuto a battessimo i talenti Peligni al teatro comunale Maria Caniglia nella notte a loro dedicata una cremesse che come al solito ha raccolto un folto pubblico uno spaccato a 360 gradi sulla musica di un tempo e quella attuale un momento d'arte canora musicale coreutica che ha impegnato giovani e giovanissimi talenti insieme ad artisti riprovata esperienza è una serata molto bella perché io quando ho la possibilità di riabbracciare la gente dell'Abruzzo ho sempre una forte emozione e quanto ha detto il tenore Mazzocchetti reduce dal programma televisivo di tale quale show poi l'appello ai giovani talenti beh io non voglio parlare per luci comuni ma avendo un'accademia in Abruzzo a San Giovanni teatrino io dico sempre come condizio sine qua non deve esserci lo studio perché il talento tira la possibilità di arrivare fino a un certo punto la serata è stata condotta data di anni dell'associazione musica e dance dell'attore Pietro Becattini fra le performance anche quella dell'ex vice sindaco Luciano Marinucci un altro organizzatore della Kermess ormai divenuta un appuntamento fisso ma soprattutto anche questa sera abbiamo dimostrato che il nostro territorio è ricco di talenti nel ballo nel canto ma grandi musicisti e questa è la mia gioia secondo me è un bilancio molto positivo molto positivo perché Sulmona ha da da regalare e da esportare talenti veramente a volte le abbiamo non ce ne rendiamo conto e nemmeno le tra virgolette utilizziamo invece Sulmona ha grandi risorse basterebbe solo che ci credessimo un po' di più tutti il ricavato della serata sarà devoluto alla protezione civileana di Sulmona tre giorni di Chocolate Day un fiume di cioccolato sta per invadere la città di Sulmona Gaetano Trigiglione servizio tre giorni di gusto di divertimento di dimostrazione percorsi educativi nel suggestivo scenario del centro storico arriva a Sulmona in anteprima europea la fabbrica del cioccolato il 5 6 e 7 gennaio le tre giornate si apriranno meredì 5 gennaio la notizia è stata data insieme ai particolari della manifestazione durante una conferenza stampa tenuta a Sulmona nel gran caffè letterario per noi è un onore essere qui a Sulmona Sulmona la patria la città del confetto sembrava giustissimo poter portare il Chocolate Day in Abruzzo e quindi soprattutto qui a Sulmona lungo corso video saranno sistemate una mentina di pagode bianche illuminate che ospiteranno i maestri cioccolatieri e la ciocco fabbrica la struttura darà grande spazio alla parte educativa con cenni storici sul cacao dove si potrà svolgere anche intrattenimento didattico per le scuole primarie con il racconto e la dimostrazione pratica di tutte le fasi lavorative dalla raccolta alla trasformazione alle fave di cacao concludendo con la consegna del cioccolatino ai bambini è una bella iniziativa per Sulmona è un modo per attrarre turismo far conoscere il nostro centro storico e nello stesso tempo avvicinarci a una cultura verso una materia prima importante che sta diciamo ormai spadroneggiando un po' sui tavoli e sui tavoli enogastronomici ovvero il cioccolato ampio articolato il ricco programma della manifestazione che inizierà venerdì 5 gennaio come dicevamo con l'apertura degli stand del cioccolato e con l'inaugurazione dell'evento alla presenza di un pubblico interessato e delle autorità istituzionali per concludersi domenica 7 gennaio con il quarto percorso educativo all'interno della dimostrazione e cura del maestro Fausto Ercolani il cioccolato è un prodotto buonissimo fatto bene e anche salutistico noi utilizziamo materie prime di altissima qualità andiamo alla ricerca del prodotto migliore e poi lo faremo vedere qui a Sulmona in piazza tutte le varie fasi della lavorazione partendo dalla tostatura fino ad arrivando alla tavoletta proprio finita quindi passeremo tramite il gruè di cacao la prima raffinazione la miscelazione dei vari ingredienti e la creazione del cioccolato vero artigianale e ci siamo siamo arrivati anche questa sera alla buona notizia del giorno ci sarà anche una Sulmonese al bouquet festival di Sanremo concorso nazionale dedicato all'arte floreale in programma domenica prossima 7 gennaio 2018 si tratta di Marianna Diana come unica concorrente in gara per l'Abruzzo la manifestazione giunta alla seconda edizione è organizzata dall'associazione Piante e Fiori d'Italia ed è patrocinata dal comune e dal casino di Sanremo saranno 25 fioristi in competizione al padiglione di Villa Ormondi Sanremo che dovranno realizzare dei bouquet colorati sul tema fiori e musica sullo stile italiano il vincitore entrerà a far parte della squadra dei fioristi della prossima edizione del festival ad annunciarlo il responsabile di serie della CNA Franco Ruggeri che manda un caloroso in bocca al lupo a Marianna Diana che rappresenterà in quella sede non solo sul Mona ma l'intera regione Abruzzo e chiudiamo con il calcio per un altro colpo dei nero stellati che si assicurano le prestazioni del giovane difensore italo-brasiliano Igor Pupinski Ferreira classe 1997 il calciatore ha già avuto esperienze in serie D per aver totalizzato nella scorsa stagione 20 presenze con i toscani della Pianese si tratta di un jolly difensivo che può adattarsi sia nel ruolo di laterale che di centrale vi ricordo questa sera alle 21.30 l'appuntamento con la rubrica sociale di Onda di Buonocchio per tutti ci saranno i personaggi dell'anno il podio della nostra iniziativa lanciata da Onda TG davvero tutto per questa edizione Onda TG torna domani grazie per essere rimasti con noi a tutti voi lascio la buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti